ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo a visionare un cofanetto tutto italiano di una label italiana famosa ormai in tutto il mondo sto parlando della cinemuseum il film è del 2019 diretto da kevin kölsch e denis widmaier sto parlando di pezza matari ovvero cimitero vivente remake del film del 1989 tratto da un romanzo di stephen king scritto nel 1983 cinemuseum ha distribuito due varianti per questo titolo ovvero la lenticolare che questa è la full slip poi ha distribuito anche un cofanetto che le contiene tutte e due e contiene anche la lenticolare del film del 1989 quindi uno stupendo cofanetto ahimè ormai andato fuori catalogo se volete acquistarlo insomma ebay e c'è da sborsare un po di soldini perfetto ragazzi detto questo passiamo all'unboxing eccoci qua andiamo a visionare questa bellissima edizione cinemuseum per la linea art uscita numero 14 pezza matari guardate che lenticolare fa veramente paura una profondità d'immagine veramente spaziale spaziale questa è la costina con scritta cinemuseum art cm a 14 quindi uscita la numero 14 con il logo della cinemuseum e il logo della linea art in questa edizione presente sia il blu ray che il 4k il cartone ragazzi è rigidissimo quindi molto robusta e come ci ha abituato cinemuseum nella parte superiore troviamo un logo a tema del film ok andiamo a destrarre prima la steelbook questa è quella che è stata distribuita per il mercato italiano andiamo ad aprire e troviamo il blu ray e il disco 4k stupenda poi all'interno troviamo un booklet bellissimi gli artwork veramente stupendi andiamo a visionarlo velocemente qui c'è una prefazione a cura di fabio zanello sia in inglese che in italiano e all'interno troviamo immagini del film film che mi è piaciuto sicuramente non paragonabile al film del 1989 ma insomma anche questo film mi è piaciuto jason clark e dopo guardatevi bene questa immagine perché dopo vi mostrerò un qualcosa inerente mettetele in memoria quell'immagine ci tenevo a farvelo vedere tutto fatto veramente bel e bene sto booklet e questa è l'ultima pagina con i due registi kevin kölsch e dennis whitmyer bellissimo perfetto ma non è finita qua non è finita qua perché cinemuseum si regala delle cartoline adesso le andremo ad aprire e tre le mostrerò una per una sono una più bella dell'altra perfetto allora prima avevo detto di insomma mettere in memoria quella foto dove la bambina soffia sulla candelina perché perché cinemuseum ci ha abituato che per ogni edizione della linea art ci fa un piccolo regalo a tema e guardate guardate qua la candelina la riproduzione della candelina veramente 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 bella regalo molto gradito grazie a cinemuseum perfetto ragazzi io con questo ho concluso l'unboxing prima di salutarvi volevo dirvi due cosine innanzitutto la numerazione perché questa uscita è limitata a 400 copie e questa è la numero 269 quindi numerazione che è molto importante per noi collezionisti vi volevo anche dire che vi metterò i link per l'acquisto in descrizione ce ne sono rimaste veramente poche coppie quindi se decidete di acquistare insomma fatelo il prima possibile ci vedremo in altri video il prossimo lo dedicherò a un'uscita della linea exclusive sto cercando di recuperare un po' di edizioni sia per la linea art che per la linea cult e anche per la linea exclusive come ho detto l'altra volta mi sono approcciato da poco a cinemuseum e quindi sto lavorando per cercare di recuperare insomma un po' tutto quello che si può recuperare molti titoli sono andati fuori catalogo quindi insomma bisogna recuperarli tramite ebay e bisogna aspettare ovviamente che capiti insomma un prezzo giusto perché i prezzi veramente sono alle stelle per queste edizioni quindi motivo in più se volete acquistare questa edizione fatelo quanto prima perfetto ragazzi detto questo io ho concluso il video se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti